Exor Attics, benvenuti! Oggi siamo qui a presentarvi questo nostro nuovere. Si tratta di Hyundai Ioniq con motore 1.6 105 cavalli, ibrida, in allestimento Prime. Possiamo fare un focus su questi fantastici cerchi in lega. Passando invece nella parte posteriore notiamo cristalli posteriore oscurati e l'innovo oscurato. Sensori di parcheggio e retrocamera per agevolare le nostre manovre. Bagagliaio molto capiente, parliamo di una capienza di 450 litri. Abbattendo le sedute posteriore arriviamo anche a 1.500 litri. Adesso passiamo all'interno dell'abitacolo. Interni molto spaziosi, i passeggeri viaggiano veramente molto comodi. Interni in tessuto con attacchi Isofix sulle due sedute principali. Climatizzatore anche per la parte posteriore e cristalli elettrici. Posizione di guida davvero molto comoda. Abbiamo comandi al volante per regolare il nostro infotainment e per quanto riguarda tutta la parte di cruise control. Poi abbiamo il nostro schermo touchscreen, dove è possibile chiaramente accedere al menu della navigazione. Il nostro mirror link, dove è possibile chiaramente connettersi tramite Android Auto o Apple CarPlay. Qui abbiamo invece il nostro cambio automatico sequenziale e diversi vani, porto oggetto e portabevande per un maggiore comfort. Questa vettura è stata immatricolata a settembre del 2019 e ha percorso poco più di 62.000 km. Questa, come tantissime altre offerte, le potete trovare sul sito rattix.com.